Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Browstar Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale di questi nuovi, lasciate il hashtag Browstar qua sotto nei commenti per ricevere il cuoricino E noi andiamo avanti con la nostra nuova puntata Allora come al solito ci sono tanti che mi dicono Morduk, quello va usato tanto, Morduk, quello va usato così, Morduk non mirare Giustamente dovete calcolare che a me è la prima volta che gioco a questo gioco e ci vorrà un pochino prima che mi abituo a tutte le cosette E prima che mi abituo anche a giocare bene Però come avete potuto notare quando gioco da appunto video è un po' più difficoltoso per me giocare Anche perché devo riuscire a parlare contemporaneamente a voi ad alzare spesso la testa verso la telecamera E nel frattempo giocare non è molto facile ragazzi quindi mi devo abituare Anche perché sto da smartphone quindi è anche più scomodo Va bene, allora andiamo immediatamente a fare una bella cosa Apriamoci, 5 Brawl Box e poi una Big Box Perché a forza di farmare piano piano escono Vai, Brawl Box Monetine Powerpoint di Shelly Powerpoint di El Primo Va bene così Ok, continuiamo Brawl Box Vai Monetine che sono sempre buone Shelly più 4 El Primo più 6 E ci piace anche questo Vai, si continua Ok, abbiamo un'altra Brawl Box per noi Abbiamo sbloccato qualcosa Un nuovo Brawler dalle Brawl Box normali Oh miseria, ricocchette, ricocchette, super rare, non l'ho mai provato Ok, poi ci darò un'occhiata e lo proveremo Allora, monetine Ok, Powerpoint di El Primo che tra un po' ripotenziamo Powerpoint di Nita Va benissimo così Allora, abbiamo un altro Brawl Box 50 monete, mica male Shelly più 6 E Powerpoint di Colt più 8 Buono, buono, buono Allora, andiamo avanti Big Box per noi Apertura Vai Apriamola 119 monete Comunque una Big Box Powerpoint di Bull Ok, molto buono Più 11 Abbiamo Powerpoint di Rico Cat Che appunto è arrivato adesso Ricocchette, non so che si chiama E 5 gemme Niente male Siamo arrivati a quante gemme? 14 gemme Già stiamo Niente male, sinceramente Si guadagnano abbastanza facili Ok, abbiamo sbloccato questo nuovo Brawler Che sinceramente non so cosa fa Andiamo a fare l'upgrade Così almeno lo sblocchiamo Sinceramente sono tentato di testarlo Anche se sono sicuro che ci andrò a perdere Allora, nello shop se non ero C'ho anche la Free Box Quindi apriamo anche quella Quindi una volta dalla Free Box Ci ho trovato il primo Non vorrei dire Monedine Powerpoint di Shelly E Powerpoint di Bull Niente male lo stesso Anche per una Free Box Ok, tra poco potremo sbloccare Magari un nuovo, raro Oppure qualche skin Chi lo sa Allora, andiamo a fare qualche battaglia di oggi Vediamo un po' che cosa abbiamo Abbiamo gengrab Possiamo fare showdown Oppure possiamo fare ace Sono quasi al 400 ragazzi Non lo so Allora, facciamo prima un gemgrab Con il nuovo personaggio Non so che cosa fa E quindi non so neanche come mi devo comportare Puoi dire che non lo so giocare Non lo so giocare la prima volta che lo uso Quindi vediamo un po' che cosa succede Ok Allora, prima di tutto che fa Oh, è quello che tira le palline rimbalzanti Quanto mi piace questo Eh, questo è difficile da gestire Per un paio di motivi La pallina rimbalzante La dovete gestire voi In questa maniera Dovete sperare anche che rimbalza Ah Ho fatto la cavolata Eh, vabbè C'ha poca vita Devo rendermi conto che c'ha poca vita Ah, mi sono accorto adesso Che ho scordato gli occhiali Adesso qua sotto nei commenti Marduk Gli occhiani Che non ti fa male Sai, ogni volta me lo fanno Ok Vai così Non so che fa la final Ok Pallettoni sul faccione di questo L'abbiamo eliminato Vai così No, non l'ho presa Anche quel rimbalzo Uh Ok, cerchiamo di No, ho fatto un rimbalzo sbagliato Ma l'ho colpita Va benissimo Andiamo a prendere le gemmine E dammo sede cattiveria Gentilmente Che il bello rimbalzano anche Tra uno e l'altro Le persone Quindi non è male come cosa Vediamo un po' Ok I rimbalzi funzionano Vai così Ho preso l'orsacchiotto Che poi c'hanno un sacco di raggio Queste palline Quindi non sono malaccio Ma mi sono incastrato Non mi ha mai visto Eh, porca miseria Vedete che succede? Mi distraggo più facilmente parlando E mi hanno fregato tutte le cosine che c'avevo Ok Abbiamo questa bellissima final da tirare E un Voilà Vediamo un po' se prendo qualcuno Ok Sono riuscito a gestire un rimbalzo Non ci credo Ok Vediamo un po' Presi Perfetto Siamo a 9 su 10 Hanno evocato l'orsacchiotto L'orsacchiotto potrebbe essere problematico Ah, il raggio di questo però è stupendo Regà È lunghissimo Non faccio tantissimi danni Ma la final la faccio subito Ok Ah No Ho tirato storto Ho preso qualcuno uguale però Hanno dato Ok Solo sta per morire Boom Shotato da me No Il primo qui no No Maledetto Guardalo che maledetto Cavolo L'avevo pure preso con rimbalzo No, 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 no Vai Il devasto No, il primo Il primo si è nascosto Eccolo il primo Uccidilo Uccidilo No, guarda dove stava nascosto Maledetto Va bene Per essere la prima volta eluso Non me la sono cavata malissimo Devo dire Non mi è dispiaciuto Ok Allora Il nostro primo gem grab È andato così Ci può stare Era la prima volta che lo giocavamo Allora Direi di farne un altro Anzi Vediamo un po' Jürgen Che cosa sta facendo Un gem grab Io direi di andarci con il primo De cattiveria Andiamo insieme a Jürgen Che con il squadra Con Jürgen Mi trovo bene Sicuramente Gioca abbastanza bene Ok Si prosegue Vediamo un po' Che cosa riusciamo a combinare Insieme a Jürgen Allora Sono con il primo E il primo Sinceramente Io vado sempre molto a sacrificio Ma avete detto Mordug Il primo Non deve prendere le gemme Infatti io spesso Le evito le gemme Ma se me ne trovo Otto davanti per terra Perché qualcuno L'ha abbandonata E le recupero Non perché sono il primo Le lascio là Ai nostri avversari Sinceramente Ok Ce la stiamo già cavando Abbastanza bene Facciamo il tanconi Di turno E diamo fastidio Ai nostri avversari Vai così Tipo mo' sta gemma Non la dovevo prendere Non mi sembra il caso Olè Vai così Ciottone su quelli Che vogliono darci fastidio Vai così No non mi ha saltato Ho fatto la final E l'ho mala fatta Dai Questa è cattiveria Lì c'è stata La botta secca Su faccione Mamma mia Boom Preso Poi dire Perché queste gemme Non le dovrei provare A prendere Anche se rischio Di morirci Volevo fare la final Per scappare Non ce l'ho fatta Ok Stanno tutti a zero Infatti le gemme Stanno tutte là Io adesso dovrei fare Una bella cosa Un saltello Lì così E massacrare Sto maledetto Se ce riesco Wow Ce l'ho fatta E non riesco A scappare Con le gemme Ok Siamo messi Malaccio C'è C'è un contro Colpi di continuo Ma Abbiamo un filo Di svantaggio E loro stanno Per vincere Questa è una brutta Situation Niente Non si fa Non si fa Eppure questa L'andiamo a perdere Probabilmente Se non riescono A uccidere qualcuno Di loro Entro questi secondi No Stanno tutti Troppo distanti Oh Se l'hanno fatta Per qualche seconda Le vai a qualche gemma Ok Io sto cercando Di colpire lui Sì Un po' No Sì Gliel'ho fermata Dai Correte Niente Non ce la facciamo L'abbiamo provato Fino all'ultimo Ragazzi Poteva andare bene Ma non è andata così Ok Facciamo così Vai 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 De cattiveria No Non l'ho stoppato Dai Per un pelo Non ci credo Potevo ucciderlo Vabbè Può succedere Insomma Non è che si vince Sempre Eh che diamine Ok Allora Vediamo di farne un'altra Visto che stiamo già in gruppo Con Jürgen Divertiamoci così E me la rifaccio sempre Con il primo Perché io mi trovo bene Come tankone Sinceramente Ok 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 Vediamo un po' Chi ci capita contro E se riusciamo a gestirlo Un po' meglio Dipende pure chi ci capita Come terzo a noi Allora Vediamo un po' Se riusciamo a gestirla meglio Oh Bello quel personaggio Non so effettivamente che fa Tira le carte Ah ok So qual è È problematico quel personaggio Può essere molto problematico Io vado contro il curatore A dargli fastidio Ok L'abbiamo fatto indietreggiare Questo è importante Ok Abbiamo già tirato dei colpi Al loro primo Che non ha potuto recuperare vita Con le Già gli sta a morire Poverino Mi quasi dispiace Mi mantengo la final Non la voglio sprecare così Veramente Vorrei sprecare soltanto Quando abbiamo delle gemme O quando loro sono abbastanza vicini Da essere shottati Perché per adesso Noi abbiamo il controllo Della zona Vai Così 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 se fa Mamma mia La cattiveria E ho già recuperato la final Mi piace Questa cosa ci piace tanto Olè Boom Bella combo Mi è piaciuta quella stretta al centro Ok vai No dammi 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 Chorgen No Attento E niente E quello che succede Era voler troppo Aiaiaia Ho fatto la final Non dovevo farla E vabbè E vabbè L'abbiamo voluto un po' troppo Sinceramente Ce la siamo rischiata male E tu ce mori primo Questo sta a fare lo stesso sbaglio Che ho fatto prima io In pratica Ok stiamo a 10 a 0 Forse questa può essere vinta Se indietreggiate però Oh Che hanno fatto lo sciottone Che combo fantastica Che ho visto lì giù Ok questa è stravinta Mamma mia Mamma mia No Ma appello stavo per perdere le gemme io E non vincevamo Ok Una partita abbiamo vinta E Jürgen Ha fatto il capolavoro Quindi vale Il suo bellissimo star play Ok star key per noi Del giorno Perché le altre Già l'ho prese Se non erro Vediamo un po' Ok Siamo andati anche troppo bene Sinceramente Allora Vorrei provare a fare un haste Con il primo Perché io ho visto L'altro giorno Che mi sono riuscito A fare un haste Con il primo Girandogli intorno In pratica Saltando Ma dipende sempre dalla squadra E non è detto Che ci si riesce sempre Quindi ultima partita per oggi Vai Quindi ne abbiamo perse due Ne abbiamo vinta una Con una combo fantastica Che ci è veramente piaciuta Abbiamo anche rischiato di perdere Sinceramente Adesso preghiamo un haste Con gente random Vediamo un po' Allora Da quello che so Bull questo qua davanti Dovrebbe essere un ottimo personaggio Per questa modalità Perché permette Con la sua final Di fare una chargiata Che rompe le cose E la stessa cosa vale Per il nostro il primo Perché c'ha il salto Della final Che ci permette Di evitare I nostri avversari Di fronte Quindi ci permette Di andare direttamente Dove vogliamo andare Quindi addosso Alla cosa avversaria Anche se adesso Il nostro compagno Di squadra Sta un attimo In pericolo Non solo lui Pure io Abbastanza Ok Ah ha saltato Vedete Vedete come ha fatto Ok E te pare Che mi fregavi così Eh però mi ha ammazzato Ho provato Ci ho provato A mantenerli fermi Mentre quell'altro Difendeva Ma penso che non ce la facciamo Perché vedo che stanno Tutti qua davanti Ok Guardate il maledetto Arciere Ok E io ci sto a provare Ma fa troppi danni Sto coso La chiappo Eh niente Guardate il bull Come charge Ecco per quello Che vi dicevo Il bull è pazzesco È ottimo È ottimo in questa modalità Eh no Ci hanno massacrato Ci hanno proprio soppresso Eh niente Sicure se andavo con la chargiata Alla non gli potevo fa nulla E vabbè Ci ho provato Oggi è una giornata di sconfitte Oggi non ci si riesce Probabilmente anche il caldo Effettivamente non ce la fa Va bene dai Ragazzi Abbiamo fatto un po' di partite insieme Abbiamo fatto un'apertura La partita insieme A Jurgen E' andata benissimo Abbiamo fatto una combo stupenda Spero che questo gioco Vi continua a piacere Arriviamo a 300 like Condividete il video Si chiedete al canale Nessuno vi lascia il hashtag Brewstar Con sotto i commenti Per ricevere un cuoricino E se volete sapere Come si fa a installarlo per Android Andate nel link qua sotto Della pagina Facebook Anzi Del gruppo Facebook Perché lì se ne parla tantissimo Io non ve lo posso spiegare E già ve l'ho detto il motivo Quindi Ci vediamo alla prossima puntata